... su Mare Nostrum. Questo concorso ha riguardato tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Salerno. I ragazzi che vi hanno preso parto con un contributo artistico letterario di immagini hanno potuto riflettere insieme ai docenti sul grande fenomeno della mobilità umana e su quello della immigrazione che interpella la nostra terra. Il risultato è stato estremamente positivo. I ragazzi sono entrati con passione in questa competizione sana e ci hanno offerto un saggio della loro creatività, del loro interesse e della loro sensibilità. La cultura si costruisce in questa alleanza educativa, in questa corresponsabilità. Oggi la Diocesi di Teggiano Policastro ha premiato i vincitori del concorso Mare Nostrum. È un concorso rivolto alle scuole medie superiori della provincia di Salerno che tende a promuovere la riflessione, la conoscenza, l'approfondimento, ad ascoltare la voce dei giovani delle scuole medie superiori. Rispetto a questo fenomeno grande che è quello dell'accoglienza dei richiedenti asilo, dei migranti, a porci degli interrogativi sullo scenario del mondo, a non guardare da un'ottica ristretta ma aprire gli orizzonti come solo i giovani sono capaci di fare, di avere uno sguardo aperto, libero, limpido, non inquinato da pregiudizi e quindi questa esperienza del concorso nelle scuole si è voluto dare voce ai giovani attraverso la produzione letteraria, attraverso la produzione artistica.